di origine servile che dominò l'Egitto, la Siria è parte della Palestina per oltre 250 anni, dal 1250 al 1517. La loro storia è un'epopea di ascesa e caduta, di conquiste e intrighi di palazzo, che ha lasciato un segno indelebile sulla cultura e la storia del Medio Oriente. Origini ascesa al potere Le prime attestazioni dei mamelucchi risalgono al IX secolo, quando i califi abbasidi iniziarono ad arruolare schiavi di origine turca e circassa come soldati. Questi guerrieri, addestrati fin dalla giovane età all'arte della guerra, si dimostrarono presto abili e leali, diventando una componente fondamentale dell'esercito califfale. Nel corso del XII secolo, i mamelucchi acquisirono sempre più potere e influenza all'interno del sultanato Ayubi d'Egitto. Nel 1250 dopo la morte del sultano al-Sali Ayub, they finally seized power for themselves, inaugurating the mameluc sultanate. Il periodo d'oro del sultanato mamelucco I primi sultani mamelucchi, appartenenti alla dinastia dei Bari, si distinsero per le loro capacità militari e amministrative. Sotto il loro regno, il sultanato mamelucco raggiunse il suo apice, espandendo i suoi confini in Siria, Palestina e Arabia. I mamelucchi si dimostrarono abili condottieri, respingendo le incursioni dei mongoli e sconfiggendo i crociati nella battaglia di Ain Jalut nel 1260. Questa vittoria, che pose fine alle ambizioni crociate in Medio Oriente, consacrò i mamelucchi come campioni dell'Islam. Oltre che per le loro prodezze militari, i mamelucchi si distinsero anche per il loro mecenatismo culturale. Il Cairo, sotto il loro dominio, divenne un centro di cultura e di arte, con la costruzione di splendide moschee, madrase e palazzi. Declino e caduta appunto il declino del sultanato mamelucco iniziò nel XIV secolo, con l'ascesa della dinastia dei Burgi. I sultani burgi, spesso più interessati ai piaceri della corte che alle questioni di governo, permisero l'indebolimento dell'esercito e la corruzione dell'amministrazione. Nei secolo, l'impero ottomano iniziò ad espandersi verso sud, minacciando il dominio mamelucco. Nel 1517 il sultano ottomano Selim I sconfisse i mamelucchi nella battaglia di Marj Dabik, conquistando l'Egitto e la Siria. Eredità dei mamelucchi. I mamelucchi lasciarono un'eredità a duratura in Medio Oriente. La loro influenza si fece sentire in diversi campi, dalla politica all'economia, dalla cultura all'architettura. Ancora oggi, il Cairo conserva numerose vestigia del periodo mamelucco, come la cittadella, la moschea di Muhammad Ali e il complesso di Sultan Hasan. La loro storia rimane un esempio di come una casta di schiavi possa conquistare un impero e lasciare un segno, indelebile sulla storia. Alcune curiosità sui mamelucchi. I mamelucchi erano spesso reclutati tra i giovani turchi e circassi, che venivano convertiti all'Islam e addestrati fin dalla giovane età all'arte della guerra. I mamelucchi erano divisi in reggimenti, chiamati IQTA, che erano comandati da un emiro. I mamelucchi erano famosi per la loro abilità nella cavalleria e nell'uso dell'arco. I mamelucchi erano anche abili amministratori e diplomatici. Il periodo mamelucco fu un periodo di grande prosperità per l'Egitto, con la crescita del commercio e dell'agricoltura. I mamelucchi furono grandi mecenati di cultura e arte, e sotto il loro dominio il Cairo divenne un centro di cultura e di sapere. I mamelucchi furono una casta militare unica nella storia, che ha lasciato un segno indelebile sulla cultura e la storia del Medio Oriente. La loro storia è un esempio di come una casta di schiavi possa conquistare un impero e lasciare un segno indelebile sulla storia.